1 marzo 2024, 29 giornata della memoria e dell'impegno, inizio dell'evento delle macchine. In Italia libera dall'indifferenza, dall'illegalità, dalla corruzione. A inizio l'evento. Buon pomeriggio a tutti e grazie di essere qui. L'oratorio, da sempre attento a qualsiasi evento e tema, si fa promotore di una giornata così incisiva. Abbiamo fortemente voluto che questa giornata non passassero a osservarla, che tutti, dai più piccoli ai più grandi, potessero essere parte integrante di una così importante manifestazione. E lo abbiamo voluto fare in un nuovo ormai simbolo di biotanica, il nostro convento dei nominitari. luogo di rara bellezza e storia, per il secondo anno consecutivo. La giornata nazionale della memoria e dell'impegno, il ricordo delle vittime, i progetti e le mafie, che oggi giunge alla sua ventinovesima edizione, riconosciuto ufficialmente dallo Stato attraverso la legge numero 20 dell'8 marzo 2017, deve suscitare in noi l'attente riflessione. Dobbiamo far sì che il ricordo sia nido nelle nostre menti e sulle nostre bocche. Dobbiamo che abbiamo il diritto di deprimere e di dire no alle mafie, senza aver paura. Dobbiamo gridare a gran voce i nomi di coloro che hanno scelto di stare nella parte giusta che purtroppo hanno trovato morte. Noi come oratorio abbiamo il dovere, insieme ai genitori, di educare i bimbi, che saranno il futuro del nostro Paese. Dobbiamo ricordare a tutti che la parte giusta è sempre e sarà sempre la migliore, che gli atteggiamenti negativi vanno condannati e corretti sin da subito. Vera promotrice di questa giornata a livello nazionale è l'Associazione Libera, che a sua volta è una rete di associazioni, cooperative sociali, movimenti e gruppi, scuole, sindacati, di oggi si è parlati, gruppi scout, gruppi colpotti un governo non solo contro le mate la produzione di fenomeni di criminalità e che li alimentano e profondamente perdono per la giustizia sociale, per la ricerca di verità, per la tutela dei diritti, per una politica trasparente, per una legalità democratica fondata sull'uoglianza, per una memoria viva e condivisa, per una cittadinanza all'altezza dello spirito e delle speranze della Costituzione. Ogni anno Libera, in tante città italiane, organizza la lettura dei nomi delle persone barbaramente assassinate dalle macchie, divenuto un modo per far rivivere quegli uomini e quelle donne, bambini e bambine, per non far morire le testimoniate. L'esempio di chi ha combattuto le macchie al viso aperto e non ha ceduto le nance, i gatti che gli imponeva di erogare hanno il proprio dovere professionale e civile, ma anche di vite di chi su malgrado si è ritrovato nella traiettoria di una pallottola o vittima di potenti esplosivi diretta da altri. Storie pulsanti di vita, di passione, di sacrifici, di amore per il bene comune e di affermazione di diritti e di libertà legate. È una giornata che per la rete di Libera costituisce un punto di arrivo e di ripartenza, in cui dalle spazio è anche la denuncia delle presenze delle organizzazioni criminali e delle condivenze con politica e economia in questo diridico. Vi chiederete come è nata questa giornata. Ebbene, questa iniziativa nasce dal dolore di una mamma che ha perso il figlio nella strage di Capace e non sente pronunciare mai il suo nome. Un dolore che diventa insopportabile se alla vittima viene legato anche il diritto di essere ricordato con tutti i nomi. Dal 1996 ogni anno è una città diversa. Un lungo elenco di nomi scandisce la memoria, che si fa impegno quotidiano. Recitare i nomi e i cognomi con un'interminabile rossena civile per farli vivere ancora, per non farli con le mani. Il 21 marzo in tanti luoghi del nostro paese, oggi anche l'ambiente a Placanica, sono presenti per un abbraccio sincero ai familiari delle vittime innocenti e le mafie. Non dimenticando con le vittime e le stragi, del terrorismo, del dovere e purtroppo di queste dovere atroci. Diamo ora la parola al nostro sindaco, avvocato Antonio Caneo. Ricordare le vittime innocenti della violenza confusa e non solo nel senso di giustizia. ricordare questa atrocità, il dolore provocato dalla trasmissione del mondo, ricordare tutte le vittime spazzate, spesso la parte migliore della nostra società. E quindi è per noi un onore poter ospitare questa inizia che io ho promossa, come avete sentito già dal laboratorio, che ha deciso che anche in questa nostra comunità si può e se deve sostenere questa battaglia, questo senso di comunicare a tutti, di riparire a noi che non siamo mai più giovani, ma soprattutto farlo per il futuro, in modo che si possa evitare questa barbarie. L'oradoria deciditata l'anno scorso ha promosso la prima iniziativa e siamo al secondo anno consecutivo. Vedo di nuovo la presenza della signora Liliana Esposito Carbone, che è molto indirettamente interessata per la perdita del figlio, una delle vittime innocenti che stasera viene ricordata del figlio di Silinano. E soprattutto c'è anche la presenza del dottore Francesco Accordino, che con la sua testimonianza sicuramente lo ringrazio per aver cercato l'invito, perché sicuramente saprei illustrare quale è stato il periodo delle strage, delle uccisioni, delle uccisioni di uomini innocenti. Ecco perché l'amministrazione comunale, sì, non è un'amministrazione comunale che partecipa con molta convinzione a questa iniziativa e all'interno della riteniamo di fondamentale importanza, perché questo non deve più avvenire, dobbiamo eliminarla completamente. La violenza mafiosa non si può giustificare in nessun mondo, non c'è ricchezza che possa giustificare l'accessione di uomini, non c'è potere o il confinimento o la pompa, questo è un potere che può giustificare l'accessione di una persona, non c'è futuro a questa logica, non c'è futuro a questa logica, perché bene che vada, diceva qualcuno che ha detto che l'entrame delle macchine se ne intende, il finale sarà questo, o dei geni di carcere, o la morte per mano degli stessi, degli stessi, degli stessi, diciamo compagni di viaggio, diciamo così, del giurato e compagni di viaggio. Quindi noi dobbiamo essere vigili, anche nella nostra comunità ci deve essere questa cultura, di virtù del totale di questa, non di una tipologica perché non trovo l'altro termine, ma non è una logica, è una contrologica, perché nessuno di noi, nessuno della nostra comunità, non sa pensare minimamente che queste sono cose di cui valutarsi. Noi dobbiamo rifiutare questo, tutto questo, dobbiamo rifiutare tutto questo. Io sono contento che nella nostra comunità ci sia questa manifestazione. Tra l'altro ogni anno, voi sapete che qua vicino, un esempio del nostro territorio, del nostro territorio, della comunità della Madonna del nostro Signore del nostro obbio, viene ogni anno organizzata una preghiera per la conversione dei rifiuti, una preghiera molto partecipata, come vedete di tutti i paesi di maggioranza, ma anche le altre regioni, che si prega appunto per la conversione dei rifiuti. Noi vorremmo che da questo paese, anche da questo paese, si muova in questa direzione, cioè cercare di far capire a tutti che la violenza mafiosa non può essere giustificata, in nessun modo. E per fare questo lo andiamo tutti a prepararci, nelle scuole, nei luoghi di lavoro, ovunque possibile. Conseguitemi pure di ringraziare, di salutare i rappresentanti delle forze di ordine, delle forze di polizia, del commissariato di Svelo, che con la loro presenza e con la loro vita ci fanno capire quanto sia importante questo tipo di iniziativa, perché loro spesso vanno incontro a seri pericoli, per difendere l'incolumità dei cittadini, per difendere e salvaguardare la loro obvivenza civile. Io ho cercato in queste poche parole, senza scrivere, senza dilungarmi troppo, perché non voglio portare ad esempio a chi forse stasera è chiamato più di me a promuovere questa cultura della legalità, questa cultura della loro indifferenza, e di onorare forse meglio di me, con loro impegno, con loro onorato in più occasione le vittime, che noi stasera cerchiamo di ricordare. Io voglio solo dire che sono orgoglioso della mia comunità, che è una comunità che nella stragrande maggioranza riuscita questa prospettiva di mafia, e voglio pure ribadire che assieme all'amministrazione comunale, qui rappresentata dalla delegazione del Consiglio, sarà sempre presente in questa iniziativa, per cercare di migliorare le condizioni e la qualità di vita della nostra comunità, e voglio che da questo Paese, desidero che da questo Paese, desidero che da questo Paese possa raggiungere nella lopera, questo Paese non vi dico è meta-incessante di tante persone che vengono in questo nostro territorio, perché parte da un messaggio chiaro, non siamo una comunità molto grande, siamo però una comunità molto convinta, vogliamo vivere in pace e vogliamo dare il nostro contributo per la crescita di tutta la lopera, una lopera senza violenza, una lopera senza violenza e vaporiosa, e senza l'arroganza e la prepotenza di chi pensa di poter soggiogare le istituzioni e le persone che incontra sulla sua strada, che non vi dicono accomodatelo. Ecco, da questo punto di vista noi cerchiamo di vigilare le istituzioni, perché questa non avvenga, perché non ci sia conflittazione e soprattutto perché non siamo soggiogati le istituzioni al volere e alla logica di questa federella criminalità. Con queste parole io mi amo e possiamo parlare in tempi non molto lontani di una bella lopera, di una bella lopera dove la convivenza civile si ha un diritto ormai acquisito e che nessuno può mettere in discussione. Grazie a tutti i presenti, soprattutto il nostro dottore Accordino, ma anche la nostra caraleghiana ormai conoscenza cara. Tramite i ragazzi all'oratorio abbiamo imparato a conoscerla e ormai posso dire che fa parte della nostra famiglia, ma siamo contenti anche del dottore Accordino, che sicuramente auto ci racconterà la sua testimonianza, una testimonianza forte, una testimonianza vissuta in prima persona sui campi di battaglia che ormai è in passato, ma anche oggi tante volte viviamo. Ma anche quella testimonianza che Liliana sicuramente verrà come madre, una madre però che non parliamo di rassegnazione, ma è una testimonianza di speranza, una speranza che deve dare oltre tutto il male che una parte di questa società che rappresenta anche la mafia vuole compiere, è un male che nessuno desidera, ma è vero che a volte sento qua. Ringrazio anche l'amministrazione comunale, le forze dell'ordine, i miei presenti, come diceva il nostro sindaco, sono anche loro per noi un porto sicuro in alcune circostanze, perché attraverso la loro presenza noi possiamo anche intanto vivere la nostra vita nel modo più sereno possibile, ma soprattutto anche la loro presenza è una presenza che haciuto il coraggio anche nel poter vivere e testimoniare sempre la legalità. A volte ci troviamo in situazioni in cui si può avere paura di percorrere delle strade, abbiamo paura a volte anche di venire fuori, però loro sono sempre presenti proprio per indicarci che non siamo da soli, ma la speranza deve essere anche una speranza che viene dalle nostre case, dalle nostre famiglie e oggi voglio mettere un accento sull'oratorio e soprattutto su questi ragazzi, questi ragazzi che è più piccoli e più grandi, anche noi in un certo senso abbiamo fatto in un certo passivo. L'abbiamo vissuti e quello che mi ha colpito profondamente è che c'è una consapevolezza anche se ancora da bambino, da ragazzo, ma c'è una consapevolezza anche la legalità, c'è una condanna anche da parte loro di tutto questo male che si è creato, nel passato che si sta creando e che in qualche modo potrebbe anche crearsi. Ma loro ci danno quella speranza, ci fanno capire che da soli non possiamo fare nulla. Ecco, libera, libera questa rete, questa rete che ci fa, ci unisce. È una rete che hanno fatto anche i nostri ragazzi, i nostri ragazzi sono saputi mettere insieme. Proprio con un grido ribelliamoci, bisogna ribellarsi. Liberarsi soprattutto quando qualcuno vuole toglierci la nostra gioia di vivere, la nostra libertà, il nostro voler vivere il bene, l'amore. E loro sono veramente loro che ti spingono. Ma quel video che abbiamo visto insieme a loro di impastato, in cui c'è questo ragazzo, c'è proprio il bisogno che prende, dice sai contare? Sai contare? Sì, sono contare. Allora, sai contare fino a uno, due, tre? Sì. E sai contare? Ecco, loro l'hanno... È proprio un modo per dire, vieni con me, stai con me, fai lo stesso viaggio che sto facendo io, non avere paura. Avere coraggio di andare a guardare in faccia quel mostro a volte che è la mafia e non avere paura. Perché siamo in tanti. Loro, proprio nel loro piccolo, ci vogliono testimoniare a noi che siamo più grandi. Noi che dovremmo essere loro sicurezza, sono loro che a volte ci fanno dare, avere sicurezza nel nostro agire, nel nostro fare. Allora, io voglio veramente, intanto porto anche i saluti del nostro vescovo, Monsignor Oliva, che per altri motivi non potrebbe essere qua presente, ma sicuramente lui sarebbe stato qua felice di partecipare a questa giornata. Questa giornata soprattutto perché è un corso solo veramente, è un'anima sola che grida libertà, che grida veramente legalità, che grida al mondo intero, grida che non c'è nessun potere che possa fermare l'amore, che possa fermare la pace. L'amore, come ci dice anche per la Settimana Santa che stiamo iniziando, ecco, vince anche la morte, si dice. Non si dice, è così. L'amore sconfigge anche la morte. I nostri ragazzi hanno fatto questi cento passi, l'hanno fatti tutti insieme, l'hanno fino all'ultimo momento, all'ultimo passo. Sono sicuro che loro, come diceva il sindaco, siamo orgogliosi di questa comunità, ma io in particolare sono orgoglioso di loro. Sono veramente la nostra luce, la nostra speranza e che avranno sempre nel nostro cuore veramente una parte speciale. Sono loro che traiamo noi, non noi che traiamo noi, che traeniamo loro. Allora, grazie a tutti e una buona serata. Quest'anno siamo lievi di avere qui il dottor Francesco Accordino, dirigente squadra omicini di Palermo e ultimo sopravvissuto alla guerra di Mario. Prima di dare la parola, vogliamo esprimere la nostra più profonda ammirazione. Siamo contenti di averla qui e di poterla ascoltare. E vogliamo esprimere le nostre gratitudini e il nostro ringraziamento per il lavoro da risvolto. Fare un lavoro così significa avere coraggio, significa sacrificare la propria vita per cercare di ripulire la nostra società. Abbiamo potuto leggere e ascoltare le varie interviste che lei ha rilasciato in questi anni. Nelle sue parole abbiamo riscontrato l'amore per il suo lavoro, la sua tenacia e ci ha colpito una sola riflessione. Che oggi facciamo l'Oscar? Sicuramente non sono mai il luso di vincere la mafia. La mafia non può essere vinta nel carabiniero della finanza. La mafia può essere soltanto sconfitta soltanto con un esercito di insegnanti che hanno il compito di formare le nuove generazioni, secondo una mentalità antinocchiosa. Prima questo cerchiamo di fare noi nel nostro piccolo e nel nostro oratorio. Andiamo a parola. Grazie ai ragazzi dell'oratorio che mi hanno invitato e che ho conosciuto e imparato ad apprezzare. Grazie al sindaco, ai carabinieri, alla polizia di Stato, alla polizia municipale, ai rappresentanti delle forze dell'ordine che garantiscono la legalità in questo centro. Grazie a tutti voi non avrei mai immaginato che un centro come questo così piccolo esprimesse un'energia veramente abbinevole. Grazie ai ragazzi, grazie a quelli che io dico sempre. Un esercito di insegnanti, poi c'è a sconfiggere la mafia. Non la forza della polizia, dei carabinieri, della finanza, dell'esercito. Un esercito di insegnanti. Padre Puglisi quando fu ucciso, al killer che si avvicinava a lui, con la pistola in mano, sorrise e gli disse vi aspettavo. Perché? Perché Padre Puglisi aveva cominciato a levare dalle strade i fanciulli, i ragazzi che la mafia invece voleva fare dei soldati al loro servizio. Io sono l'ultimo supestite di quella squadra mobile della questura di Palermo che era fondata dal dottore Cassarà che fu assassinato, dal dottore Montana che fu assassinato, da Natale Mondo, tutti agenti e componenti di quello che si chiamava l'avamposto degli uomini perduti. Perché si chiamava l'avamposto degli uomini perduti? Perché noi non avevamo in quegli anni a Palermo la solidarietà o l'appoggio della società civile, della gente. Il sindaco di Palermo diceva ma la mafia non esiste. La mafia sono quattro delinquenti che rubano la radio nelle macchine. Il vescovo di Palermo rispose al Vaticano che gli tieneva notizie sulla violenza mafiosa. Non esiste la mafia a Palermo. È un modo di dire che tutto è mafia perché niente è mafia. Io ero il capo dell'omicidio. Mi sono fatto oltre mille omicidi di mafia. Gli omicidi eccellenti e gli omicidi purtroppo anche di bambini. la mafia allora regnava a Palermo. Non c'era il comitato della lenzuola, non c'erano ancora le stragi di mafia, non c'era Falcone e Porsellino che ruppero quella atmosfera. Il palermitano diceva. La mafia tutto sommato non è una cosa cattiva. Come lo diceva pure qua per l'andrata. È una cosa buona. La mafia non tocca le donne e i bambini. La mafia non tocca le donne e i bambini. Falso. Assolutamente falso. Loro si chiamano uomini d'onore. Fanno il giuramento tagliando e dando fuoco a un'immaginetta sacra dicendo che devono bruciare come questa immaginetta se tradiscono cosa nostra. Dicono di essere uomini d'onore. In effetti non lo sono assolutamente. Una sera mi chiamarono per un omicidio a San Lorenzo. Corsi sul posto con la volante e arrivato l'altro vai un bambino di undici anni, morto. Il killer lo aveva chiamato Claudio. Il bambino si avvicinò e gli sparò un colpo di pistola alla testa. Che cosa poteva aver fatto di male un bambino di undici anni? La mafia non tocca le donne e i bambini. Ho fatto le indagini. Ho scoperto chi era il mandante dell'omicidio. Ho sequestrato la pistola per l'omicidio. Ma ancora oggi non si ha giustizia e la pedova e la mamma accetta, si chiama accetta, ricerca con tutte le forze giustizia per il piccolo Claudio. Giuseppe Letizia era un pastorello di Corlea. Pascolava il suo greggio nelle montagne di Corlea e vide degli uomini che trascinavano una persona, lo ammazzarono a ponte, a legnate, lo massacrarono e lo buttarono in un crepaccio delle rocce. Il bambino, vedendo questa scena, si impaurì fortemente ed ebbe la febbre. Tornò subito a casa e disse a suo padre che aveva visto questo. Il padre chiamò il dottore di Corleone, il medico di Corleone si chiamava dottor Michele Navarra ed era il capo mafia di Corleone. Si fece raccontare quello che aveva visto, aveva visto la morte del sindacalista Placido Rizzotto ucciso da Luciano Riccio. E appena lo finì di raccontarlo gli fece un'iniezione e lo uccise, lo fece morire. La mafia non tocca le donne e i bambini. Rosalia Pipitone era figlia del capo mafia dell'Arenella. Una sera mi chiamarono per una rapina, corsi sul posto perché era stranissimo. I rapinatori, dopo che avevano rapinato, avevano preso il bottino, erano tornati indietro e avevano sparato alla Rosalia Pipitone. Ma perché? Ho fatto le prime indagini e ho visto e ho accertato che Rosalia Pipitone, figlia del capo mafia dell'Arenella, era stata uccisa su ordine del padre, il quale voleva salvaguardare l'onore della famiglia perché la figlia si era separata dal marito e aveva una relazione. Pensate. Pensate che la mafia non tocca le donne e i bambini. Pensate che i uomini d'onore sono questi. Nei miei mille omicidi, ho visto tanti di questi casi. I corneonesi ammazzavano tutti coloro che erano di ostacolo alla loro ascesa al potere. Ma Palermo era insensibile. Quando il mio collega Cassarà ritornò a casa i killer lo aspettarono sotto casa e cominciarono a crivellarlo di colpi ad aspettare Ninni Cassarà. Al balcone di casa c'era la moglie, Laura, con la bambina di pochi anni in braccio. Laura, appena vide che cominciavano a sparare contro il suo marito, corse per le scale per cercare di dare aiuto al suo marito. Bussò ad ogni porta del suo palazzo per dare alla bambina e correre dal marito. Nessuno gli volle aprire la porta. Questa era Palermo in quegli anni. Questa era Palermo che diceva che la mafia è una cosa, tutto sommato, che non un poca le donne e i bambini e che può essere anche una cosa buona. Soltanto dopo è venuta quella rivoluzione delle coscienze che ha fatto esporre la lenzuola ai balconi di Palermo con la scritta «Le vostre idee camminano sulle nostre gambe». Noi abbiamo io e Casarà e tutta l'equipe investigativa della squadra mobile di Palermo abbiamo redatto quel rapporto che ha fatto poi il primo grande maxiprocesso di Palermo. E ora io faccio il testimone di protezione. Testimonio in tutte le auge di tribunale chiamato a confermare o a riscontrare le dichiarazioni dei pentiti. Perché tutto quello che i pentiti raccontano dalla loro parte io l'ho vissuta dalla mia. Ecco perché dicono che sono la memoria storica di quella squadra mobile. L'unico che porta avanti un compito in grado è la memoria. E mi piace andare nelle scuole e incontrare i ragazzi. A incontrare quelli che saranno la società civile di domani. Perché ripeto, la mafia può essere sconfitta solo da loro e da quelle sentinelle di legalità che sono un esercito di insegnanti. Grazie. Applausi. Grazie. Grazie. Allora, a nome dell'oratorio le consigliamo una targa e ricordo di un'azione di flori al dottor Francesca Cordino, dirigente squadra omicidi di Palermo e ultimo sopravvissuto alla guerra di un'altra. Per la sua dedizione al lavoro lungo tutta una vita. La ringraziamo per il sopravvivarsi, per garantire la nostra libertà e la nostra sicurezza sempre con decisione e coraggio. Grazie. Applausi. 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 grazie per darci ancora di più l'input per lottare ogni giorno contro una così attrazione realtà un pensiero oggi 24 marzo avrò a Massimiliano che quest'anno avrebbe compiuto 50 anni un traguardo alla vita degli uomo ma che lui non può festeggiare perché è strappato troppo presto alla vita via di via grazie è un uditorio composito e cercherò di utilizzare la mia comunicazione e riferendomi a tutti noi perché ci sono anche i ragazzi che spero sì che spero non sia il nonno anche io devo esordire dicendo che sono grata e sono sinceramente sono pieda nella mia anima oggi in questo luogo che ha una preziosità grande che ho conosciuto l'anno scorso e del quale sento la bellezza quella con la più grande e la ricchezza di sentimenti e di intenti non capto la benevolenza di nessuno cerco di parlare in maniera facile perché non voglio decodificare certe tematiche e certi contenuti molto difficili parlerò di mio figlio nel senso che di lui racconto la vita mio figlio manca proprio oggi da 19 anni e 6 mesi ricordo come si portano gli anni e i mesi delle contamine non dico 19 anni e mezzo prima di venire ho acceso sul davanzale della sua camera il lumino che accendo ogni 17 e 24 anni al mese ricordando il giorno dell'alguardo mortale è il giorno in cui poi si è fermato nell'ospedale di Locri vado fiera vado fiera di mio figlio 30 anni giovane per sempre il 18 arrile ne compierà 50 quindi un ragazzo di Locri un uomo di Calabria non è un epigeno per una madre è facile parlare per il proprio figlio soprattutto un figlio spezzato aveva fondato una cooperativa di tipo B che dava lavoro ai ragazzi con disabilità e ne esplendava ogni incompensa era un ragazzo semplice donatore di sangue per 11 anni per i bambini dalla Semici la nemia mediterranea che affligge la Locri nell'ospedale di Locri andava più volte l'anno a donare sangue ed era stato chiamato per la donazione di Bigollo per una madre voglio parlare del padre mio figlio da padre a 23 anni aveva avuto una triste impertenente persone con una delibia Italia ed era nato un bimbo compagno di scuola di Francesco un bimbo che oggi a momenti si laurea e che è costato parlo ai grandi tanto gli is non i piccoli un'esumazione per affare di giustizia a 30 mesi dalla sepoltura la mattina in cui mio figlio è spirato quando l'abbiamo salutato in silenzio perché non si grida alle due in quarto di notte in un reparto di animazione mio marito che domani compirà 82 anni e i miei figli Irene e Davide sono tornati a casa non avevamo lacrime forse le avevamo già piante e ho fatto i miei cento passi maledettamente lucida per grazia o per disgrazia sono andata lungo un cortile condominiale ho attraversato la strada e sono andata sotto i balconi di una casa di una casa facendo esattamente i cento passi se posso salire 90 110 mi sono scusati e ho gridato il nome il cognome mettendoci vicino quella parola che in sintassi potremmo chiamare a posizione qualsiasi assassino io ho denunciato subito così gravurosamente in maniera bello drammatica ma mi scuseranno tutti avevo appena salutato il mio figlio che andava all'obitorio avevo però tre giorni prima deposto per ore in caserma perché noi siamo stati la famiglia Carbone di Locri i furissimi perché noi non siamo di Locri siamo persi di Locri perché Locri è il chimitero e se quando Massimiliano per affari di ingiustizia questa dicitura rovoante è stato distrubbato nell'eterno suo riposo io fossi stata organizzata l'avrei fatto cremare per il suo grande bambino e me ne sarei scappato dalla Locri poi poiché ho una chimica particolare che mi ha costretto ad essere pragmatica ho detto no io sono una maestra a Locri io ho un imperativo morale i miei eruditi la mia dignità intellettuale la mia identità in persona lasciando stare che ho la mia famiglia e devo vivere e ho l'identità morale preziosissima che è Alessandro per questo figlio nipote bambino adolescente un uomo che a momenti diventa medico io ho sentito forte come fanno le carmelitane mi ha chiamata ecco il signore ho sentito forte che dovevo fare intanto sono sopravvissuta dopo un mese sono tornata a lavoro ho cercato di vivere oggi la vita di mio figlio nel 2006 sono stata credita sulla tomba di mio figlio non mi racconto questo perché voglio essere compassionata ma è storia e Sciascia dice che se un faccio non lo si racconta è come se non fosse mai accaduto bene l'allora prefetto De Sena che mi ricevete perché io ho scrissi un divertissimo perché sono notoriamente sarcastica a Prodi che veniva a portare le fiori nel primo anniversario per la morte del dottore Fortunio che si era inchinato alla barra di mio figlio perché Fortunio è conceso 13 mesi dopo Massimiliano io scrissi qualcosa che i giornali hanno ritenuto accattivante per gli target e quindi hanno ripreso e allora mi ha voluta ricevere il prefetto De Sena e mi disse qualcosa che come l'arpigio di caffoda è inciso nella mia mente per sempre sappiamo che molti sanno ma non parlano perché lei non è apparsa sufficientemente dolente non le dimenticherò mai queste parole come mai dimenticherò quelle che mi scrisse conseguo questa lettera su carta pregiata il prefetto di Reggio Calabria quando se ne andò e anzi auspicava che il successore d'Antonio Mussolino mi sarebbe stato vicino come se io essendo donna avesse avuto bisogno della pacca sulle spalle perché a casa di forti sono i maschi non i figli sotto la croce sono rimaste solo le donne lo dice il Vangelo lo disse don Ciotti lasciando la scorta fuori entrando nel cimetero di Locri proprio all'anniversario al 20 febbraio del 20 ottobre del 2006 e quale venire ad ogni tomba a salutare tutti quelli che c'erano nel cimetero di Locri i parenti familiari della Locri eravamo tutti con lui e questo disse la donna di Massimilia sotto la croce sono rimaste solo le donne perché la pena della concessione del diritto romano era riservata all'atrones ai malfattori era una pena infamante per cui anche sotto la croce sono rimaste di Maria perché gli amici compagni Gesù si sono allontanati per non contrariare con la loro presenza di genturione o addirittura perché mi avevano chiedere anche questa storia per anni ho dovuto sopportare che si dicesse che quello di mio figlio è un delitto d'onore era gentile che non so di essere urgenti perché non tutti sconoscono la data nella quale il codice Rocco fu abolito e la mentalità che va rielaborata rimodulata quando finalmente hanno parlato i merciti finalmente a Locri si è capito perché lo si diceva sotto voce che era la costa di Locri per uccidere il mio figlio sono stati pagati 50.000 euro quattro fucili di cui un benelli e due pistole di cui una col manico in amorio e le iniziali MV e gioielli leggendo brogliacci per 12 mesi gomitevoli e scerpendo perché poi non potevo portare a un secundale per i minorenni che è stato interessato 5134 pagine scusate ma io ho una memoria crudele e ho dovuto portare un'antologia di queste cartacce e vengo a leggere che i gioielli sono stati restituiti per l'interessamento di un uomo della costa che praticamente ha fatto lo sconto restituiti per me con i gioielli quindi io per venire qua stasera sono di nuovo passata sul sangue di mio figlio che è là nel portiere condominiale per stendere i panni oggi ho guardato il muretto sul quale è stata posata l'occhiata la lupara e se alzo gli occhi io vedo la casa in cui il killer aspettava mio figlio con robora di un altro scagnozzetto all'epoca entrambi l'anitaggio è una storia da manuale ha detto Vincenza Rando già avvocato di Libera perché la morte di Massimiliano è avvenuta per scato origine personale metteteci il passionale se ricambiamo l'etimo da patos sofferenza per invidia lavorativa perché credevano che chiusa con piccola cooperativa che cosa si guadagnasse e perché c'è una mercantilità corrotta nel senso di marcescente il coro greco quelli che dicono se l'hanno ammazzato qualcosa ha fatto sì qualcosa aveva fatto mio figlio era glorioso era bello ed era padre e quindi voleva lavorare all'ocri per poter rimanere vicino a un figlio per il quale aveva avanzato distanza di riconoscimento e morte di Silano e fermo lì dove ogni giorno io vado ad abbracciare una pietra ci sono andata stamattina e cercando ce l'ho di domani ma la giustizia è fatta già dalla verità io non aspetto una verità una giustizia giudiziaria non fa tipo di analizzare la domanda di capienza le persone coinvolte nella morte di mio figlio quasi tutte hanno fatto il loro percorso terreno qualcuno è ospite delle patrie da lei qualcuno mi passa davanti qualcuno mi dà mi ingiuglia tutt'oggi qualcuno mi menaccia qualcuno mi acquarellato ho attraversato 11 tribunali compresa le corti d'orpegno ma io ho detto la verità per usare quel termine che ha usato il dittore il cordino la verità è stata riscontrata vi dico una cosa forte perché poi sarò breve trovate un'altra madre che dorma tenendo sotto il comodino un crocifisso che è stato 30 mesi sulla prima barra del figlio quella deve essere la la crocifisso di un riscatto per una nocrine io non lo faccio vedere a nessuno quello che verrà con me non è quella la vergogna l'omertà è vergogna vigliaccheria scorno ho parlato a tutti mi sono rivolta facendo un appello non certamente piedistico persino ai pentiti è tutto fermo ma io sono acquietata perché perché i tribunali hanno riconosciuto il figlio di Massimiliano anche con ostacoli terribili con messazioni del comune di Locri terribili e il figlio di Massimiliano sa di essere stagognato non faccio la romantica perché mio figlio era gran figlio perché mio figlio è morto perché mio ripote non so dove sia quando mi fermano per strada e mi dicono il clone è la fotocopia io vado dritta dimittosamente le mie lacrime non le ha viste nessuno non posso essere volente io non sono una lacrimosa io sono una gettadina e mi sono presa tutto l'augurio di Dolciotti nella sua bellissima produzione a un incontro vi auguro vi auguro il diritto alla rabbia perché ci sia rabbia per ciò che amiamo e la rabbia la rabbia la rabbia la dobbiamo sentire di fronte all'ingiustizia sociale al compagno murizzato all'animale maltrattato alla giustizia delegata alla fame alla guerra alla cultura della mafiosità se non è quella della mafia io non posso sentire che devo andare a chiedere all'assessore che abita in una contrada attraverso un condomino che è di quella contrada originale che devono venire a fuori dei pozzetti è un diritto noi non dobbiamo chiedere non dobbiamo rivendicare ciò che c'è dovuto con la cultura del favore personale come non si deve risolvere e non voglio edificare che siete tutti persone meravigliose grandi e mi vengo attente vuol dire che è il mio colpino ma non mi fa piacere e non dobbiamo chiedere i favori perché siamo amici noi siamo cittadini o no questa è la giustizia la legalità si esercita e si impone con la coesione sociale con la pressione civile con la consapevolezza consapevolezza di ciò che noi dobbiamo e di ciò che ci è dovuto oggi ricorderete ricorderemo qui 1081 nomi ai quali in gruppo si sono uniti perché è doveroso i migranti di steccato di un gruppo per tutti questi io vi faccio solo un nome il piccolo Ali che ha finalmente il nome me ne ero scritto un nome straniero Mohamed Aisani figlioli sono nomi stranieri perché noi dobbiamo riscontrare nell'identità la persona grazie perché è giusto che lo nominiamo sto creatore Mohamed Sina Osemi grazie sono nomi come diceva il dottorino Bello con gli occhi aperti cercando una vera promessa come i ragazzi di Calabria che se ne devono andare a lavorare fuori perché la loro vera promessa non è quella nativa io vi ringrazio vi prego il dottore parlava di storie che io conosco perché le ho lette milioni di volte piccolo Giuseppe Letizia e Claudio Domino oggi alla mamma ho promesso a Graziella Cetta di ricordarlo un dici anni per sempre fatemi ricordare Simone Lamberti che viaggiava col panno in giudice e fu incisa fatemi ricordare Gianluca Canonico figlio di un poliziotto che a Reggio Calabria stava giocando e fatemi ricordare uno di cui nessuno si ricorda mai lo studente pastore Paolino Rodin di Bruzzato Zinfini un poeta d'Ocresa ha scritto nessuno mi nomina nessuna scuola porta il mio nome il mio sangue è rimasto fra i rovi bambini per sempre io stasera vi ho raggiunto abbiamo fatto la festa per i 50 anni di Massimiliano giovane per sempre vi ringrazio grazie mille 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 questa qua anche già il nome dell'oratorio Aspizio e Pervizio una targa ricordo e alla signora Lilliana Esposito che lo pote la sua vista capire lotta per la ricerca della verità le sue parole di speranza e il suo grande coraggio sono per noi un gran esempio di vita grazie mille grazie mille grazie mille eccoci giunti al secondo momento cruciale della manifestazione come avevo anticipato prima ogni anno in una città diversa e in un luogo diverso un lungo elenco di nomi scandisce la memoria che si fa impegno quotidiano recitare i nomi e i cognomi come gli interminabili nella storia civile per farli vivere ancora per non farli morire mai per farli esistere nella loro dignità oggi nel giorno del rispetto della natura e del rinnovo della primavera della verità e della giustizia sociale perché solo facendo memoria si getti insieme di una nuova speranza oggi da qui vogliamo diventare cercatori di verità buon poveriggio a tutti 21 marzo 2024 29esima giornata della memoria e dell'impegno che ricorda delle vittime in agente delle mafie vogliamo ricordarle tutte le vittime in agente delle mafie e delle stragi quelli di cui conosciamo le storie quelli di cui sappiamo solo il nome e le tante delle quali non abbiamo ancora conoscenze 1861 Giuseppe Montalbano 1862 Antonio Polimeni Giorgio Fallara 1874 Emanuele Attardi 1878 Anna Nocera 1879 Giorgio Verdura 1893 Emanuele Notarbarcono 1896 Emanuele Sansone 1898 1898 Salvatore Di Stefano 1905 Luciano Nicoletti 1906 Andrea Orlando 1909 Gioe Petrosino 1911 Lorenzo Panipinto 1914 Mariano Barbato Giorgio Pecoraro 1915 Bernardino Verro Giorgio Gennaro Giovanni Zangara Costantino Stella Giuseppe Rumore Giuseppe Monticciolo Alfonso Canzio Niccolò Alonji Paolo Lipuma Croce di Ganci Paolo Mermina Giovanni Orcelli Stefano Corogna Caloggio La Faldetta Carmelo Minardi Salvatore Varsalona Giuseppe Zaffuto Castrenze Ferreri Salvatore Mignano Gaetano Circo Pietro Ponzo Vito Stassi Giuseppe Cassarà Vito Cassarà Giuseppe Compagna Domenico Spatola Mario Spatola Pietro Paolo Spatola Pietro Paolo Spatola Sebastiano Bonfiglio Antonino Scuderi Carmelo Lobutto Viaggio Pistone Biagio Pistone Antonino Giolino Antonio Mancino Andrea Raglia Calogero Comaianni Calogero Comaianni Filippo Scimone Calcerogno Catalano Agostino D'Alessandro Calogero Cicero Fedele De Francesca Michele Di Miceli Maglio Paoletti Rosario Pagano Giuseppe Scaria Giuseppe Puntarello Giorgio Comparetto Angera Dalluto Raffaele Miceli Lipporio Anzalone Angelo Lombardi Vittorio Epifani Vitangelo Cinquepalmi Imelio Piccini Masina Perricone Spinelli Gaetano Guarino Pino Camilleri Giovanni Castiglione Giroli Moscaccia Giuseppe Biondo Giovanni Sant'Angelo Giuseppe Sant'Angelo Vincenzo Sant'Angelo Filippo Forno Giuseppe Bullara Nicolo Azoti Fiorentino Bonfiglio Mario Poscone Pietro Loria Francesco Sassano Emanuele Greco Mario Spampinato Giovanni Lapproc Vincenzo Amenduni Vittorio Levico Giuditta Levato Accursio Miraglia Pietro Macchiarella Nunzio Sansone Emanuele Piseni Margherita Castelli Giovanni Grifo Giorgio Cusenza Castrenze Intravaia Vincenza Lafata Serafino Lascari Giovanni Megna Francesco Riccari Vito Allotta Giuseppe Di Maggio Filippo Di Salvo Vincenzo La Rocca Vincenza Spina Michelangelo Sambia Giuseppe Casaropea Vincenzo Loiacomo Giuseppe Maniaci Galogero Caiola Vito Bibidone Luigi Geronazio Leonardo Sambia Epifanio Nibuma Placido Rizzotto Giuseppe Letizia Galogero Cangiorosi Marco Antonio Giacalone Antonio Giacalone Antonio Di Salvo Nicola Messina Celestino Trapponia Giovanni Taspiato Vita Dorangrittia Vincenzo Campo Il Grau Carlo Guarino Vito Guarino Francesco Gullino Candeloro Catanese Michele Marinaro Carmelo Agnone Quinto Rega Carmelo Lentini Pasquale Marconi Armando Lotto Sergio Mancini Carlo Antonio Pugosa Gabriele Palandrani Giovanni Battista Loro Ilario Russo Giovanni Calabrese Giuseppe Fiorenza Salvatore Messina Francesco Brutifar Leonardo Rella Antonio Sanginiti Providenza Greco Domenica Zucco Filippo Intiri Salvatore Carnevale Giuseppe Spagnolo Vincenzo Retro Pasquale Almerico Antonino Pollari Vincenzo Di Salvo Vincenzo Savoca Giovanni Russo Anna Pesigiacomo Giuseppina Savoca Vincenzo Pecoraro Antonino Pecoraro Antonino Damanti Cosimo Cristina Paolo Buongiorno Antonino Giarnola Paolino Riccobono Enrico Mattei Giacinto Puleo Giovanni Marchese Giuseppe Tesauro Pietro Cannizzaro Mario Marausa Silvio Corrao Carogero Vaccaro Pasquale Luccio Eugenia Altomare Giorgio Giacci Marino Fartelli Concetta Lemma Cosimo Gioffre Carmelo Battaglia Giuseppe Burgio Giuseppe Piani Salvatore Surro Orazio Costantino Giovanni Domè Salvatore Bevilacqua Mauro De Mauro Rita Cacigia Rosa Tazzari Andrea Gangemi Nicolina Mazzocchio Letizia Palungo Adriana Vastalla Annalise Bort Angelo Casile Franco Scordo Gianni Anicò Luigi Lo Celso Pietro Scaglione Antonio Lorusso Vincenzo Ricciardelli Antonella Valenti Ninfa Marchese Virginia Marchese Giovanni Spampinato Giovanni Ventra Domenico Carnata Paolo Di Maio Alberto Calascione Maria Giovanna Elia Salvatore Peodale Angelo Sorino Emanuele Riboli Nicola Ruffo Giuseppe Bruno Calogero Monreale Gaetano Cappiello Francesco Peronaino Domenico Fanchineri Michele Fanchineri Tullio De Micheli Giuseppino Tano Cristina Mazzotti Angelo Calabroco Alfredo Mazzoni Giovanni Pomponio Luisa Fantasia Mario Geretto Luigi Ciappurro Gerardo D'Arminio Giuseppe Moscarelli Paterina Liberti Salvatore Fancetta Carmine Abuzzo Salvatore Longo Salvatore Buscelli Francesco Vinci Alberto Capo Vincenzo Ranieri Vincenzo Papi Francesco Paolo Chiamonte Mario Ceschino Rocco Corica Piero Antonio Castelmono Agostino Aghiello Rocco Gatto Stefano Gondello Vincenzo Poloso Pasquale Polverino Giuseppe Russo Filippo Costa Artilio Bonincontro Donald McKay Maria Angela Passiatore Adriano Truscalla Michele Gennonò Ugo Tror Peppino Impastato Antonio Esposito Ferraioli Salvatore Gastelton Gaetano Longo Paolo Giorgetti Pasquale Cappuccio Fortunato Furore Augusto Rancini Pasqualino Perri Mario Scudelli Alfonso Sgroi Filadelfo Avalo Mario Francese Michele Reina Giorgio Androsuoli Giorgio Boris Giuliano Calogioro di Buama Cesaro Terramano Regni Juan Crusotto Giovanni Bellissima Salvagare Polona Domenico Marrara Vincenzo Russo Antonino Tripodo Rocco Bicente Barilla Carmelo Di Giorgio Primo Perdoncini Valdassarre Nastassi Orlando Regnano Gioacchino Fulbino Iersanti Mattarella Giuseppe Valariotti Emanuele Basile Giannino Rosardo Pietro Cerulli Nel Tano Costa Carmelo Iarnino Domenico Perventano Marcello Torre Vincenzo Arpete Giuseppe Giovinazzo Giovinazzo Ciro Rosetti Filomeno Montano Bruno Vince Grazie De Paolo Italo Toni Antonio Colistra Adelmo Fossati Silvio De Francesco Giuseppe Guglio Camaro Gillo Poppea Argentiero Mugia Altapella Donata Bombardi Vito Di Volella Sebastiano Bosio Leopaldo Cassani Giuseppe Grimanti Vincenzo Molè Domenico Francavilla Mariano Perone Giuseppe Salvia Mariano Mellone Costella Cassini Giuseppe Cuditta Michele Boiello Francesca Morcia Lorenzo Corsetta Pier Michel Onofrio Valvola Angelo Di Battolo Annunzia Pesce Berluccio Ferrami Caterina Giavarella Luigi D'Alessio Rosa Bisone Niccolò Piombino Antonio Sanzaro Sanzaro Pio Datorre Rosario Di Salvo Gennaro Musella Giuseppe Dalla Domenico Vecchio Antonio Aventi Rodolfo Muschini Matteo Rizzuoto Silvallo Tanzolini Luigi Di Barca Salvatore Naiti Giuseppe Di Capone Antonino Burnafato Salvatore Mugolecca Antonio Amaduro Pasquale Paolo Paolo Giacone Vincenzo Spiletti Carlo Alpetto Dalla Chiesa Emanuele Senti Carrara Domenico Russo Calogico Zucchetto Carmelo Cerviuto Simone Calamberti Giuliano Pondacchio Andrea Mornile Luigi Caffiero Altino Graziano Gennaro De Angelis Anna Maria Esposita Antonio De Rosa Elio Di Mella Salvatore Dragone Manuel Attuca Giovanni Gambino Francesco Borrelli Alfredo Agosta Francesco Panzeo Vincenzo Enea Giovanni Cantoni Raffaele del Cognano Aldo Germano Palomino Gigliotti Graziella Maesano Maria Maesano Ormeo Pesce Attilio Pesce Filippo Ascolti Luigi Gravino Mario Dodaro Giochino Martino Angelina Falco Francesco Saverio Martino Armando Colazzino Gian Giacomo Giaccio Montano Pasquale Mandato Salvatore Pollara Mario D'Aleio Giuseppe Buonmarito Pietro Morici Bruno Caccia Rocco Ignici Salvatore Bartolotta Mario Cabassi Stefano Isacchi Sebastiano Alonici Francesco Imposilato Domenico Gelientola Antonio Cristiano Nicandro Inso Gioachino Pusafuri Francesco Quinto Salvatore Zangara Patrizia Scefo Vittorio Scifo Luigi Cangiano Lia Vintone Simona Di Catani Giuseppe D'Alperani Domenico Canatà Serapino Cifarò Francesco Pugliese Pippo Fam Renata Conte Crescenzo Casino Giovanna Tistatotelli Lucia Cervato Anna Maria Brandi Anna Le Simori Giovanni De Simone Nicola De Simone Luisa Matarazzo Maria Luigia Morini Federica Pagliatella Abramo Vastarella Francesco Leone Susanna Cavalli Angela Calvanese Carmine Moncia Valeria Pagliatella Giovanna Giovanni Calabrono Michele Prescia Santo Calabrese Vincenzo Uvento Pietro Ruschetta Salvatore Un'immagine Francesco Fabrizio Salvatore Mele Bruno Adami Giuseppe Gattino Cannavo Paolo Signorino Agostino Mastro di Casa Adriano della Corte Pietro Fatti Giuseppe Mangano Gioacchino Tagliatella Sergio Cosmai Giovanni Carbone Barbara Lizio Alta Giuseppe Alta Salvatore Alta Beppe Montana Antonino Passara Roberto Antiochia Giuseppe Spara Antonio Enrico Monteleone Giancarlo Siani Viaggio Siciliano Giudizia Milanella Carmine Tripodi Graziella Campagna Giuseppe Machela Mario Diana Marco Padovani Gianluca Canonico Domenico De Maio Angelo Piscardi Giuseppe Lomoro Giovanni Lomoro Paolo Buttone Giuseppe Pillali Filippo Gebbia Salvatore Morreale Francesco Alfano Vittorio Sposica Salvatore Benigno Lavio Domino Cilipo Santralone Giovanni Giordano Nuzia Taspina Antonio Bertuccio Francesco Pestia Domenica Regirolamo Luigi Stajanoni Salvatore 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 Giovanni Garcea Silvastiano Morato Nino Grua, Luigi Caiavonis, Francesco Guadaluppi, Francesco Paolo Semini, Gregorio Feu, Giuseppe Rechiti, Rosario Iontia, Giuseppe Cutroneo, Rosario Montalto, Antonio Cibinini, Carmelo Gancio, Luciano Pignatelli, Giovanni Di Perebetto, Cosimo Aleo, Anielo Giordano, Giovanni Mileto, Antonino Scirto, Paolo Svezio, Paolo Ficala, Roberto Rizzi, Amedeo Damiano, Giovanni Seis, Domenico Zarpia, Giuseppe Insalaco, Giuseppe Montalbano, Natale Mondo, Donato Boscia, Grazie Cime, Francesco Megna, Alberto Giacomelli, Antonino Saetta, Stefano Saetta, Mauro Costagno, Luigi Ranieri, Carmelo Zaccarello, Girono Romarino, Giulio Capilli, Pietro Magno, Arbe Magnami, Raffaele Antonio Tavarico, Michele Birga, Giuseppe Masvolo, Francesco Sanzano, Gianfranco Trenzi. Domenico Garberta, Walter Pietrone, Roberto Garzino, Francesco Crisupilli, Giuseppe Caruso, Francesco Gatti, Marcella Tassone, Riccardo D'Antrossi, Vicenzo Rasso, Paolo Vinci, Salvatore Riccardo, Antonino Agostino, Ida Castelluccio, Domenico Campiello, Arnoldia Campi, Carmela Bonmore, Pietro Giro, Donato Campetti, Garoccio Romagna, Francesco Rondola, Giovanni Battista tedesco, Giacomo Catalano, Pietro Polaro, Nicolina Viscozzi, Pasquale Pinerano, Pasquale Agniel, Giuseppe Tiziano, Gianni S. Mosman, Gaidano Dicicco, Domenico Moradio, Salvatore Penalia, Gaidano Diagera, Michele Pio Mali, Claudio Ruffi Jaivi, Andrea Cortilhezzi, Antonio D'Orufio, Mincezio Medici, Providenza Bonsera, L'Unico Moradio, Giuseppe Tavolino, Nicola Gioita Pianchino, Emanuele Piazza, Giuseppe Tavolino, Giovanni Bonsigliore, Antonio D'Orufio, Rosario D'Orufio, Adesso D'Orufio, Francesco Mecchino, Andriette Bonforte, Giovanni Tregroci, Saverio Puglita, Angelo Carbotti, Domenico Catalano, Maria Marcella, Vincenzo Miceli, Lisabetta Galiati, Giuseppe Orlando, Michele Arcangelo Tripodi, Pietro Caluso, Luzio Pandolfi, Tatturo Caputo, Roberto Titti, Mario Grego, Rosario Sciacca, Giuseppe Margaro, Stefano Volpe, Francesco Liviero, Cosimo Durante, Angelo Raffaele Longo, Raffaele Ascolto, Carogero Rapino, Antonio Nunez, Pasquale Felicello, Marco Tedeschi, Ferdinando Barbaraccio, Marcella Di Lebrano, Sergio Esposito, Andrea Esposito, Dopia Andreonzi, Antonio, Antonino Pontare, Pietro Carpita, Luigi Regalcati, Giuseppe Sottine, Luigi Borco, Nicola Giuffredo, Antonio Genza, Cristina Pagnesi, Salvatore Pagnesi, Salvatore Pagnesi, Angelo Alibrandi, Umberto Molmere, Domenico Falcone, Valentina Guarino, Angelica Pertoni, Giuseppe Scenza, Salvatore Scenza, Vincenzo Eleonardi, Altene Carlo Corbio Abba, Padri, Angelo Riccardo, Domenico Tiondo, Riccardo, Riccardo Sovelino, Andrea Salva, Domenico Ragò, Giovanna Sandra Scarlino, Antonio Sovelini, Nicola Grassi, Fabio Devandi, Giuseppe Aglotto, Antonio Lampino, Silvana Corrienta, Salvatore Natario, Renato Dio, Francesco Tramote, Pasquale Cristiano, Stefano Stavusa, Alberto Lavone, Vincenzo Sovatori, Seratino Imbastro, Giuseppe Grimardi, Giovanna Grimardi, Salvatore Tieni, Nicola Barriero, Nicola Sovretti, Antonio Valenti, Onziante Scivelli, Vincenzo Giovanna, Salvatore Vincenzo Suddo, Aspare Paneri, Ignazio Aloisi, Onofilo Padesi, Francesco Aulsa, Giuseppe Piccolo, Pasquale Margieri, Antonina D'Urovico Bruno, Celino Catalano, Lichiere Gianci, D'Americo Bruno, Giovanni Centro, Filippo Paesi, Cosina Valente, Donnelli Campuzese, Francesco Paolo Pettone, Antonio Raia, Giuseppe Leone, Giuseppe Napolitano, Salvatore Andresa, Lucia Procezzano, Pane Rossellino, Edo Liusso, Cortunato Mareno, Claude Pizzotto, Salvatore Vincenzo, Giuliano Bazzetti, Giovanni Bazzetti, Francesca Morbigno, Rocco Lucida, Grazie a tutti. 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 Giuseppe Peppino, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Amato, Grazie a tutti. a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. , a tutti. a tutti. , a tutti. , a tutti. , , , a tutti. 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 , a tutti.